Esportare le registrazioni in formato video Le registrazioni possono essere esportate in formato video MP4 registrando la riproduzione. Nel video sono incluse tutte le interazioni dell'utente con la registrazione, come ad esempio la rotazione, l'inclinazione, lo zoom, l'adeguamento della soglia o l'uso di comandi predefiniti per visualizzare il fotogramma desiderato. Anche l'esportazione di una registrazione in formato video è disponibile solamente nella modalità a schermo intero. Usare il cursore della timeline per selezionare il fotogramma da cui si desidera iniziare l'esportazione del video. Poi toccare il tasto rosso di registrazione. Accettare la cattura dello schermo per iniziare la registrazione video. Avviare la riproduzione e interagire con la registrazione come si desidera visualizzarla in video. Per fermare la registrazione, toccare il quadrato Arresto in grigio. A questo punto verrà mostrata un'anteprima del video registrato. Il video può essere rifinito con i comandi disponibili in fondo. Al termine, si può confermare il video toccando il tasto Fatto in alto a destra. Puoi usare il tasto Salva nella stessa posizione per salvare il video nell'app Foto del sistema iOS. Mostrata la right-handicatorù è un cozzonato. Grazie per la vision dalla stessa posizione. Grazie a tutti. Grazie.